Siamo con Francesco Mancini allo stand di Birra del Forte, si è appena concluso il premio Birra dell'anno che vi ha visti i protagonisti con la vittoria di un importante premio. Sì abbiamo vinto la medaglia d'oro con la Mancina, devo dire ormai negli anni è sempre una conferma questa birra, porta sempre a casa qualcosa, sia a qui ma anche all'estero, è sempre un piacere vincere qualcosa e la Mancina è sempre una bella conferma. Quali sono le caratteristiche di questa birra? La caratteristica della Mancina è proprio, se vogliamo, nella sua semplicità la bellezza di questa birra, una Belgian Strong Ale che riporta i canoni delle birre belche, quindi queste note fruttate, dolci, ma un dolce che non diventa stucchevole, quindi un grande equilibrio, 7 gradi e mezzo che non si percepiscono, birra di grande bevuta da abbinare ai pasti, una birra veramente da grandi soddisfazioni. Altre referenze su cui puntate per questa manifestazione? Il birrificio del Forte è conosciuto proprio perché ha una linea di birre molto classica, è quello che un pochino ci contraddistingue, quindi puntiamo sulla qualità, sulla costanza produttiva e tutte le nostre birre si ispirano principalmente a birre a stili belche, inglesi, quindi alta fermentazione, a tutti stili molto classici. Quindi compagni della Mancina, ci sono la regina del mare, che anche quella è una birra in stile belga che ha vinto diversi premi, gas d'amante, due cilindri, una porter, quindi tutte birre comunque, ripeto, la linea, il filo conduttore del birrificio è proprio l'equilibrio e la facilità di bevuta.